ANSA, Venezia, 5-8, per l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema il referendum per l'autonomia voluto il 22 ottobre da Veneto e Lombardia è inutile e caro. D'Alema lo ha detto questa sera a mestre a margine di un incontro promosso dal suo movimento MDP sulla globalizzazione. È certo meno dannoso di quello dalla Catalogna, ha aggiunto D'Alema, solo che si buttano via 40 milioni di euro per tenere una manifestazione propagandistica della Lega Nord a spese dei contribuenti. Dato che tratta di una manifestazione di propaganda, ha concluso il presidente della Foundation for European Progressive Studies, FEPS, la Lega dovrebbe finanziarlo con i suoi mezzi.